ragazzi ci siamo è il primo video probabilmente di una lunga serie benvenuti io sono Alessio della Bristad Coffee Academy e oggi sono qui per mostrarvi qualcosina di basico ma un buon inizio su come utilizzare il caffè specialmente quello nostro a casa quindi non solo la semplicissima mocha ma estrazioni alternative caffè filtro Olchemix French Fresh ovvero la tagliera dell'Ikea con questa che è un Aeropress o la caraffa per il cold brew ovvero infusione a freddo del caffè questa è la fase più creativa del mondo potete giocare con la fantasia giocate sul livello di acqua giocate sulla quantità di caffè quanto tempo sta in infusione oppure no giocate anche con il caffè non solo questi potete fare cocktail potete berlo con il ghiaccio potete allungarlo con il latte potete frullarlo assieme al ghiaccio e fare un frozen potete fare di tutto il caffè è un mondo bellissimo l'infusione anche e poi combinare caffè e il mondo di cocktail sarà un'esplosione di creatività e fantasia è un'esplosione di creatività e il mondo potete fare di tutto il mondo potete